Le aperture dell'ex primo cittadino di Bari nei confronti di altri partiti e formazioni politiche potrebbero essere già pronte. Ieri l'Udc, oggi nei confronti del Movimento 5 Stelle. Emiliano non perde occasione per sollevare polveroni e per essere sempre al centro della scena politica. È stata infatti la possibilità di allargare il perimetro della coalizione ai centristi a far infuriare SEL, che ha minacciato, 36 ore prima della consultazione, di ritirare il proprio candidato. Ieri sera è incalzato dai cronisti, sull'apertura di Emiliano ai Grillini, Vendola ha preferito non rispondere, ma con molto garbo. Il risultato straordinario e controcorrente delle primarie, che in Puglia hanno trascinato alle urne circa 140.000 persone, assegna la leadership del centro-sinistra a Emiliano. Ma ora, avverte il leader di SEL, comincia la vera partita perché il centro-sinistra non venga inquinato. Vendola promette lealtà, ma avverte in modo lapidario. I lupi mannari frequentino altre coalizioni. La politica fa schifo. Questa è la percezione che hanno la stragrande maggioranza degli uomini e delle donne. La politica sembra la processione di coloro che fanno le trame, gli intrallazzi, i compromessi deteriori. Il centro-sinistra non può rassegnarsi a questa dimensione livida e repellente della politica. Il centro-sinistra, soprattutto oggi, deve costruire una politica di fronte a un paese che soffre, di fronte a un'Italia che si sta schiantando. Quindi noi abbiamo bisogno della coesione del centro-sinistra e di un leader del centro-sinistra che sappia battersi in Puglia e a Roma per difendere i pugliesi. E oggi i pugliesi, diciamo così, sono a rischio anche per le scelte che il governo nazionale sta compiendo. Per Emiliano però i problemi sono altri, sono i problemi della Puglia, quelli non risolti in dieci anni di buon governo. Tra questi c'è la questione ILVA e proprio sul futuro del colosso dell'acciaio il segretario regionale del PD dice di essere pronto a discutere con i grillini. La simpatia per il movimento di Beppe Grillo, del resto, Emiliano non l'ha mai nascosta. Per ora però, secondo Emiliano, l'unico piano possibile per salvare l'ILVA è quello messo a punto dal governatore Renzi. Far tornare il siderurgico una proprietà pubblica. Tornando ai fatti più politici dell'allargamento all'Udc, il PD è favorevole ma dovrà deciderlo la coalizione. Ma adesso comincia la campagna elettorale, quella vera, per cui tutti d'accordo sul fatto che per conquistare la poltrona di governatore sarà necessario l'aiuto di tutti contro un centrodestra che non ha ancora deciso il proprio candidato.